Ragazzi, non siamo a Miami, siamo a Milano. Solo io trovo questi posti, che meraviglia. E lei? Sciocobalzita? Ho premesso di un cane da toro. Cosa a caso. Ho recuperato, cos'hai recuperato? Questo ti blocco? Fai vedere quello verde? Ehi, l'ho, che. Ehi, l'ho. Ehi, l'ho, che. Ehi, l'ho, che. Ehi, l'ho, che. Ragazzi, mi è appena successa una cosa pazzesca, praticamente a me ogni tanto vengono le voglie e me è venuta voglia di yogurt e banane, allora sono andata con Simona al supermercato non lo faccio mai però vabbè e ho incontrato Marisa, questa signora pazzesca, io pazza, adoro, si è messa a ballare, adoro, volo Ragazzi, l'estrambornista passano la spesa perché l'hai venuta voglia di parlare 85, pigia, sotto, sotto c'è la banana, 85 Adesso, yogurt, alla tua sinistra ci sono degli yogurt Basta, basta, basta Mi piace il suo maiozzino Che bella, dai Fai la foto, amore La Marisa, ciao Gioia Che bella, sono insieme alla Ha una forza qua, eh Ha una forza qua, eh Ha una forza Eh, ti pare che la Marisa non ti conosce Tu fai il tuo lavoro e noi tu fai Sono fitte 9 euro Hai trovato quella giusta, va che bella Io vorrei mettere il tuo posto, cazzo E mi finisce dal passo E no E mi finisce dal passo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti